Buongiorno, sono Eugenio Sorrentino e ringrazio intanto gli organizzatori di V-Book 2020 per avermi concesso l'opportunità di partecipare con il mio libro Zungri 1899-1909, il decennio dell'odio, edito da LibroItalia. Il libro è il risultato di ricerche d'archivio riguardanti avvenimenti verificatesi in quella comunità rurale dell'altopiano del Poro tra la fine del XIX secolo e l'inizio del secolo successivo. Al centro del racconto, gli scontri violenti e rancorosi tra fazioni in lotta per la conquista del potere locale, ma anche il modo di pensare e di operare della classe dirigente municipale. Sullo sfondo, la moltitudine di imbraccianti analfabeti, schiacciati da quotidiani problemi di sopravvivenza, senza voce e non solo perché privi del diritto di voto. Da tempo i braccianti attenuano l'assegnazione delle terre a loro spettanti per effetto delle leggi eversive della feudalità risalenti a lontano 1806. Nell'attesa, le agognate terre sono passate nelle mani di usurpatori senza scrupoli. Sul finire dell'Ottocento, le aspettative e il malcontento dei braccianti sono cavalcate dagli avversari del sindaco in carica. Si aprono a questo punto scenari nuovi. Lascio però al lettore il piacere di coglierne i vari aspetti. Grazie ancora e buona lettura.